Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, notti per me non parla. Volevo ringraziare tutti perché questa è una manifestazione che è nata spontanea, è nata dalla gente, un gruppo di lavoro meraviglioso dove anche il Comune ha fatto la sua parte. È una soddisfazione immensa vedere questa piazza così piena, noi non ce l'aspettavamo, noi abbiamo detto una cosa per scherzo e invece la gente ci ha creduto veramente. Grazie a tutti e il prossimo anno sarà un mese di carnevale visto il grande successo, con il Comune non lo sa quali ci saranno, gli amministratori ma non ci importa niente. L'importante era portare la gente nelle piazze e ci siamo riusciti, grazie a tutti. L'importante era portare la gente nelle piazze e ci siamo riusciti, grazie a tutti. E' una festa voluta dalle persone, fatta dalle persone. Questa è cittadinanza attiva e noi ci siamo! Questa è cittadinanza attiva e noi ci siamo! Questa è प highlights... gruppo che voleva organizzare in questo carnevale ha dato quando l'inferla io ho cercato di aiutare come potevo ma siamo tanto contenti di avere portato la beffa sulla città e ringraziamo tutti coloro che hanno dato il via a questa bellissima iniziativa che speriamo nel prossimo anno chiunque sia ad amministrare la farà sempre meglio, grazie grazie a tutti grazie, grazie vero, grazie confermo tutto Grazie per la visione!